Allora i Veneti continuano a suicidarci, il titolo di questa puntata, una notizia di poco fa, piove di sacco, una donna è stata investita mentre attraversava la strada, è una signora di Campolongo, aveva 51 anni e purtroppo ha perso la vita davanti al supermercato Aliper. Allora, bravo Finco, sbarcate anche a San Michele al Tagliamento, ultimo lembo del Veneto dimenticato da tutti. Tra poco sentiremo al telefono anche l'assessore al bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin, che ha chiesto di intervenire, ma intanto andiamo a ripartire. Ripartiamo subito da Leonardo Muraro. Presidente. Presidente, dopo queste amiche discussioni, ripartire sui temi, sono talmente tanti che non è molto semplice, ma la situazione che sicuramente si denota è una situazione in cui le difficoltà di questo Paese è, come si diceva prima, non conflitto di interessi. Non possiamo dimenticare che si era tentato di ridurre anche i stipendi delle vari corti costituzionali e non costituzionali e che per diritti acquisiti da questi non è stato possibile toccarli. Cioè i diritti acquisiti del lavoratore che, assunto 35 anni fa, gli dicevano, fra 35 anni va in pensione, quel diritto acquisito non esiste. Il diritto acquisito per coloro che prendono 700, 500, 400 mila euro all'anno, lordi, invece ci sono i diritti acquisiti. Il diritto acquisito del pensionato che manca due anni per andare in pensione e arriva alla Fornero, quello non è un diritto acquisito. Ma questo è un Paese che va rivoluzionato completamente. Io non voglio interrompere, ma dico che ho qualche sorpresina in tasca. I prossimi mesi saranno divertenti, proprio sul lato dei diritti acquisiti. Quindi ci stiamo lavorando. Qualche sorpresina, ma io prima, Berti, dicevi quando i vari passaggi del Movimento 5 Stelle quando andremo al Governo. Io sto perdendo la fiducia che al Governo ci arrivi qualcuno che faccia veramente qualcosa per questo nostro Paese. Primo perché abbiamo perso l'autorevolezza. Non contiamo più niente in Europa. Ci è stata portata via la politica economica. L'Italia non ha più una politica economica. L'Italia non ha più una politica estera. L'Italia non ha una politica per poter governare questo Paese. Perché siamo comandati all'interno dell'Europa da due o tre nazioni. Allora stiamo perdendo l'autorevolezza di un Paese che vuole gestire il proprio territorio, i propri confini che non esistono più. Prima qualche telespettatore diceva che blocchiamo i confini. I confini noi non siamo in grado di bloccare i confini. Se noi pensiamo che ci sono pensionati che prendono 400 Euro al mese di pensione, qui solo Provincia del Treviso. Facciamo finta che sono 1.500 immigrati. A 35 Euro al giorno sono 52.000 Euro al giorno che noi paghiamo. A fine mese, ogni mese, i immigrati in Provincia del Treviso costano 1.750.000 Euro. Pensiamo, moltiplichiamo per 12, moltiplichiamo i 900.000 abitanti della provincia del Treviso che raccolgono 1.600, che siamo la provincia che dicono che ha meno immigrati rispetto al dato nazionale. Quanto sono i miliardi che all'anno noi paghiamo per fare questo business che va contro gli interessi dei cittadini italiani? Questo è un Paese che io dico va sicuramente riformato. Come? Questa è la grande sfida. Questa sarà la grande sfida. Le mani che sta mettendo Renzi sulla sanità, dove ci porterà? Io dico sempre una cosa, ma non ce l'ho su col Veneto, perché è un'eccellenza il Veneto nella sanità rispetto ad altre regioni, e anche credo a livello europeo. Però io mi sento preso in giro quando vado a fare gli esami del sangue. Sotto c'è scritto il sistema regionale Veneto, ho pagato per i tuoi esami del sangue, 43 Euro. Bene, ho pagato 87 Euro i ticket. Ah, porco cane, ma come mai succedono queste cose? Se il sistema sanitario paga 43 Euro, io pago 87 Euro di ticket, c'è qualcosa che non funziona? Ma come mai si dice che bisogna lavorare nella prevenzione e vengono posticipati i controlli che vengono fatti nelle mammografie dalle donne, oppure nelle persone di una certa età, relativamente a gastroscopie, coloscopie o quant'altro? Ormai l'età media avanza, il controllo non è più biennale, diventa triennale o quadrienale. Allora, è il sistema che sta andando, ma il problema è economico, solo economico. Allora, come cambiamo questo Paese? Questa è la grande sfida. Il posizionamento politico in questo sta rallentando, perché si parla sempre di più di posizionamento politico rispetto a quello che può essere l'interesse di un Paese, che però, io ritengo, deve trovare la sua autorevolezza all'interno della comunità europea. Altrimenti per noi siamo una gamba di un sistema ed è una gamba che forse è quella anche meno più importante di tutto il Paese Europa. Stiamo vedendo adesso nel conflitto contro l'Isis, sta facendo l'Europa, dopo i fatti di Parisi, dopo i fatti di Colonia e quant'altro, noi siamo lo zerbino del continente Europa, del sistema europeo. E continuiamo ad essere lo zerbino del continente europeo. Referendum regionale sull'autonomia, che bello, indipendenza veneta contro il resto del mondo, M5S, Padova, no, PdLega, chiedo scusa. Allora, abbiamo al telefono collegato l'assessore a bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin, che credo voglia replicare a quanto diceva Pietrangelo Pettinò e forse anche Monica Sennò, non sappiamo. Comunque, assessore, buonasera, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ci dica pure tutto quello che vuole dirci. Io non ero davanti alla televisione, ma mi è stato riportato. Sul discorso della Marco Polo System capisco la malezza di Pettinò, perché gli abbiamo portato via il giocattolo che teneva tanti anni, ma è facile fare utili con i soldi del Comune, con i contributi del Comune. Bisognerebbe anche ricordarsi i debiti che ha quella società nei confronti del Comune e ricordargli che se il socio greco non ha aderito alla liquidazione, è proprio perché ha paura di dover pagare i debiti in futuro e per quello vuole cercare di mantenerla in vita. Per quanto riguarda il fatto che non ci sarebbe tagliato niente in questo bilancio nei confronti delle partecipate, ricordo che è certificato ai revisori dei conti che abbiamo fatto un taglio di 8 milioni di Euro verso le partecipate, i trasferimenti, e un taglio di 6 milioni di Euro, 100 mila Euro sul taglio delle varie direzioni. Tra l'altro tagli non lineari, tagli che non tolgono servizi, ma solo efficientamento, sia dalla macchina comunale, sia dalle partecipate. A me l'opinione di Pettinò o di altri conta poco. L'amministrazione Brugnaro ha portato in equilibrio un bilancio che partiva da meno 32 milioni di Euro di deficit quando siamo entrati e l'abbiamo portato in equilibrio nel 2015. Abbiamo approvato il bilancio del 2016 nei termini previsti in legge entro il 31-12, chiaramente in pareggio. Il sindaco Brugnaro è risultato secondo il miglior sindaco d'Italia, parlano i fatti, parla quello che pensa la gente, ha avuto un più 8,8% rispetto di gradimento rispetto a quando è stato eletto, per cui le opinioni del centro-sinistra su queste cose poco mi interessano, non mi interessa di più l'opinione dei cittadini, dell'opinione della gente e i fatti che stiamo facendo. Siccome i fatti sono numeri e i numeri non sono smentibili, queste sono le risultanze dell'amministrazione Brugnaro e abbiamo solo appena iniziato. Se in sei mesi si riesce a fare quello che abbiamo fatto noi, pensiamo che in cinque anni riusciremo a mettere finalmente in piedi questa città dopo vent'anni di gestione fallimentare del centro-sinistra a cui ha partecipato anche Pierangelo Pettenò, essendo stato consigliere di maggioranza per più e più anni. Resti in linea, Assessore, sentiamo Pettenò e Sambo. Pietrangelo? No, va bene, insomma mi parla di una discussione inutile. Infatti, proprio inutile. Non ha visto la trasmissione e quindi poteva stare dove era? Non se ne sentivamo la mancanza? Io se vengo chiamato in causa sarebbe logico invece chiamarmi in causa quando ci sono. Bene, allora qui i colleghi che hanno molta più esperienza di me o sulle vite istituzionali sanno che quando una società partecipata di un ente si vuole prendere le decisioni si ha almeno il buon gusto di chiamare quell'amministratore e dire e parlare insieme su questa cosa. Cosa che non ha fatto quest'assessore. No, sei venuto a parlare col sindaco Brugnaro e non puoi smentirlo. Sei venuto a parlare col sindaco Brugnaro e non puoi smentirlo, hai avuto un incontro con lui e con me. Era in corridoio per cui eccetera. No, no, eravamo in stanza sua, è meglio che dici la verità perché se i balli vi dici talmente tante ti arrangelo per te no che non ti chiede più nessuno. Fortunatamente la chiusura della società l'ha decisa ancora la giunta Orsoni, l'ha proseguita il commissario e l'ha finalmente messa in atto la giunta Brugnaro. Per cui devi anche chiedere ai tuoi colleghi di centro-sinistra come mai vogliono chiudere la tua società. Più parli e più ti tiri la zappa sui piedi perché... Ah, assolutamente. No, perché... Ma possiamo togliere questo disturbo da sottofondo, cazzo? Ha parlato lui, parlo io, se no parliamo in due insieme. Il assessore attuale Zui è stato molti più anni di me in consiglio comunale, forse ha scaldato la sedia perché non ha portato cosa... Il sottoscritto con la sua società, grazie al lavoro, ha portato milioni di euro a questa amministrazione, comprese quelli di Forte e Marghera che stanno partendo i cantieri adesso, mentre l'assessore Zui ha fatto nana e bobo nelle sedie di Caffarsetti e quando andava in Parlamento non se ne ricorda più neanche nessuna le tracce. Quindi, caro Zui, continua a fare così. A me non interessa centro-sinistra, centro-destra. Io valuto, credo di poter dire che credo e chiedo di essere valutato e valuto gli altri per quello che fanno, indipendentemente dalle appartenenze o dalle lingue che metti da qualche parte te per prendersi in quei posti. Quindi, caro Michele Zui, chiedi ai colleghi tutti qual è il mio lavoro e un'altra volta impara e chiedi gli incontri istituzionali. Perché gli assessori fanno questo di solito. Non vanno a sentirsi dire le cose, a essere comandati a bacchetta da qualcun altro. Quindi, caro assessore, è bene che tu impari a fare l'assessore. È bene che tu impari a fare l'assessore perché veramente stai dimostrando di essere una persona scorretta, di essere una persona che non merita di essere un amministratore di una città come quella di Venezia. Perché uno che è assessore, indipendentemente da chi è di fronte, che può essere Pettenò, che era di rifondazione comunista, che era un tuo avversario politico, ha il dovere almeno di sentire e di parlarci. Tu invece ti sei nascosto perché sei un assessore. Sei un assessore come il tuo sindaco che vi piace farvi vedere, dire tante belle cose, ma avete paura della verità, avete paura dei fatti, non vi confrontate, non vi confrontate con nessuno. Ma io sono felice, avete tanto consenso, governate, tanti auguri. Io devo solo dire, io devo solo dire Casas e Giornovo, e no, hai già parlato e che cavolo. Adesso ti parlo sopra fin quando tu intervieni. Caro assessore, tu impara che in qualche maniera devi fare l'assessore, deve spogliarsi delle sue appartenenze, deve essere al di sopra delle parti e poter poi portare gli obiettivi. Questa è la cosa. Invece uno come te è stato abituato a stare sempre nell'ombra di qualcuno, a essere protetto da qualcuno. Da tanti sappiamo i nomi, i tuoi protettori, ma adesso evidentemente non sei più in grado di greggele questa partita. Tu sei stato a scaldare in sedia i caffarsetti tanti anni, non sei riuscito a portare neanche un euro alla città di Venezia, neanche uno, il sottoscritto è riuscito a far finanziare per migliori di euro degli interventi alla città di Venezia. Quindi prima che qualcuno ti avvisi di quello che parlano di te, se vuoi confrontati pubblicamente con me e con chi vuoi. Oppure anche decisamente, perché io ho tempo da perdere con un assessore come te che pensa anche di avere la ragione, senza neanche aver letto le carte, ebbene, caro mio, caro mio, c'è veramente che ti fai un altro mestiere della vita. Torna a fare quello che facevi prima, purtroppo ripeto a tuo, levi i bilanci e levo le cifre. Inutile che continui tu a fare questa parte qui. Allora, levo le cifre, paga i debiti e petterà con la società. Sì, anziché avvisarlo e digli che facciano in confronto al pubblico. Anziché ti mandare un sms, stanno parlando di te come si usa nelle cose. Oh, stanno parlando di te, eh? Ti intervieni, hanno detto questo. Dove va? Casomai ascoltavo la trasmissione e mi replicava. Non che tu le mandi il messaggino come i bambini all'asilo. Dico, mamma, mamma, guarda che mi hanno... hanno detto male di messa e quello. Mamma, lei interviene e mi manda la maestra, signori. E mi manda la maestra, caro. E se saresti il coordinatore del posto d'Italia? Mamma mia. No, no, sta sereno, puoi dirmi tutto perché sta sereno. Perché sta sereno ha prodotto male a tantissima gente. Quindi, un'altra volta, i messaggini da mandare. Mamma, abbiamo parlato male di te, sai? Eh, che cavolo, eh. Bene, bene, bene. Stiamo chiusi. Prendiamo un attimo. Buonasera. Allora, certo che vuole accadere. Allora, un attimo, un attimo. Monica Sambo, volevo che intervenisse anche lei. Se vuole... Sì, dico all'assessore un po' quello che avevo detto prima, dato che non ha ascoltato. Avete raccontato delle bugie. Il sindaco Pugnale è uscito sui giornali dicendo che questo bilancio è stato votato in pareggio quando ve l'abbiamo spiegato tutte le volte, ve l'ha spiegato bene il capogruppo Ferrazzi, spesso, dato che ogni volta ripetevate anche in consiglio questa bagianata, per legge tutti i bilanci dei comuni devono essere fatti in pareggio. Quindi prima balla. Seconda balla, durante la campagna elettorale Brugnaro aveva detto non chiederemo le lemosine a Roma, voi siete lì che chiedete i finanziamenti della legge speciale, noi ripianeremo il bilancio solamente con gli sprechi che sono tantissimi, eccetera, eccetera. Adesso andate anche voi a chiedere i soldi a Roma. Perché? Perché vi siete resi conto che senza l'entrata di una legge... Poi ho già detto, l'ho già detto, se ci saranno degli sprechi, se saranno da votare, li voterò, sono d'accordissimo su questo. Se ci sono degli sprechi e questo viene evidenziato nel bilancio, lo voterò anche io per il bene di Venezia. Ma d'altra parte è evidente che in una città speciale come Venezia, e adesso lo riconoscete anche voi, quindi seconda bugia, senza l'entrata del casino, che non mi pare, che il dato degli ultimi giorni stia proprio in buone acque dopo il vostro intervento... No, quello che avete fatto voi in vent'anni, più che altro. State governando... Continuerete così per cinque anni, perché... No, per i primi sei mesi le responsabilità non sono nostre. Eh, vabbè, certo, vedremo, perché voi continuate così, per ogni cosa la responsabilità è quello, ma vi siete candidati a governare dicendo cambieremo tutto, eccetera. Non l'abbiamo visto. Cioè, in questo bilancio abbiamo visto solo tagli... Appena è finito ti replico, non preoccuparti. Allora, sentiamo l'assessore perché... Allora, prima cosiddetta balla, purtroppo, sa, la Sambro non so cosa faccia in mestiere, ma non fa certo il commercialista. Io so benissimo che un bilancio di previsione chiude in pareggio. Il problema è che noi parlavamo del 2015... Il bilancio 2015... No, avete detto diversamente, vi riporto il virgolettato dei giornali... E anche se volete... E anche se volete lo scritto, non significa un male. ...ha chiuso con un disavanzo di 72 milioni di euro, mentre il 2015, che siamo arrivati con uno sbilanzo di 32 milioni di euro, lo chiudiamo in pareggio. D'accordo? Seconda cosa... Siamo arrivati in pareggio adesso perché tanto sforerete il problema di storia di età. Secondo cosa, per favore, Assessore. Cara Sambro, siccome tu, purtroppo, mi dispiace, ma sei appena arrivata, sappi che sulla legge speciale di Venezia, il sottoscritto quando era in Parlamento, tutti quanti avevamo sempre fatto un lavoro trasversale e lo hanno fatto anche i tuoi deputati. Chiedere soldi per la manutenzione della città di Venezia non vuol dire chiedere soldi per chiudere un bilancio in pareggio. Noi il bilancio in pareggio l'abbiamo chiuso nel 2016 di previsione con le nostre gambe. Chiediamo i soldi per la manutenzione della città, perché questa è una città speciale e questo non ha nel colore il centro-destra, nel colore il centro-sinistra. Per cui, tanto su questa cosa, noi chiediamo semplicemente quello che per anni avete chiesto voi e continuiamo a chiedere anche noi. Il nostro candidato, Felice Cassone, è primo firmatario di questa proposta di legge a livello parlamentare, quindi è evidente che questa cosa qua la sosteniamo da sempre. L'ho anche detto che è stata votata all'unanimità. Anche noi non capisco dove sia la polemica. No, non mi dispiace, Brugnaro non aveva detto altro. Noi abbiamo chiuso il bilancio, c'è una differenza tra le entrate correnti e le spese in conto capitali. Le entrate correnti le abbiamo chiuse con le nostre gambe, senza bisogno di aiuti al governo. Per la parte in conto capitale chiediamo giustamente dei soldi per la città di Venezia, come li avete chiesti voi e come chiaramente li chiederebbe chiunque, perché fare un restauro a Venezia, portare il triplo e il quadruplo, li fanno in qualsiasi altro polso della città, sia in terraferma che nelle isole. Va bene, grazie molto Assessore per l'intervento. Grazie a voi. Ci sentiamo, anzi venga quando vuole qui in studio. Molto volentieri quando vuole. Magari con un confronto diretto con Petteno. Ti hanno la paura in bolla. Mi divertirei molto. Va bene, grazie. Grazie molto. Debiti Petteno, paghi i debiti. Bene. Ma vuol dire che prima esiste? Ma paghi i debiti. Ma se io ho un commercialista, questo c'è un commercialista, guarda, se questo c'è un commercialista mi so proprio davvero Babbo Natale, perché cosa ti vuol? Dimi che regalo ti vuol, ma fammela cordellina. Uno li ha paghi i debiti. Ma non sei neanche il buonese e carte, ma cosa ti vuol? Allora Michele Celequin. Quale? Michele Celequin. Così chiudiamo il giro. Io penso che anche da questo momento telefonico si sia evidenziato una realtà di fatto, nel senso che c'è stato chi ha messo sul tavolo alcuni dati e chi per tutta risposta ci ha parlato sopra. Questa è una riflessione che faccio ad alta voce, ma che sicuramente molti faranno. Bene, organizza un confronto con i dati, visto che hai un potente partito dei dati. Organizza un bel confronto con il tuo assessore, vengo con i dati. Organizzalo. In qualsiasi sede, anche quella di Forza Italia. Lasciamo finire. No, va bene, ma non puoi dire... Cioè, non è che io ho parlato sopra, ho parlato sopra un maleducato di un assessore che continuava a dire delle cose false. Lui dice che gli ho interrotto perché non c'avevo i dati. Col cavolo. Sto chiedendo da sei mesi, da quando sono al governo questi qui, sto chiedendo esattamente, no perché io ho il problema, perché ho detto, ah, Finco, sa bene, io ho centrodestra, ho lega, eccetera. Ho sempre avuto ottimi rapporti perché mi confronto con i dati, con i numeri e con le cose che faccio, non con quelle che penserei di fare come fai te. Allora, facciamo terminare. C'è chi? Prego. Prego. Sono sempre contento di rispettare gli interventi altrui, anche quando quelli altrui non rispettano i miei. Però è una questione di stile, evidentemente. Certo. Ciò significa che degli interventi sono stati fatti, che questi interventi hanno avuto un certo radicamento e che come tanti interventi di risanamento che vengono posti in essere a livello locale, piuttosto che regionale, piuttosto che nazionale, il direttore portano sempre anche a degli scontenti. È chiaro che una realtà come quella veneziana in questo momento o interveniva in maniera drastica oppure sarebbe stato un balatro annunciato. Per cui, ecco, le responsabilità di chi ha governato e sta governando in questi primi sei mesi andranno valutate come correttamente si fa in tutte le amministrazioni nel momento in cui ci saranno due o tre anni di governo e cifre alla mano ci saranno i confronti debiti. Questo per quanto riguarda Venezia. Per quanto riguarda la situazione invece che si è accennata prima a livello nazionale su conflitti di interesse o altro, io dico solo questo. Se alcune riforme non sono state fatte, non sono state fatte non per questioni imputabili al centro-destra o al centro-sinistra, per questioni politiche, evidentemente sul tavolo nazionale della politica non c'era un interesse a muoversi in questa direzione. Le riforme strutturali che in qualche modo stiamo affrontando sono riforme imposte dall'Europa e sono riforme imposte da grandi gruppi economici che ci costringono a strozzare un'economia per pagare uno dei più grossi debiti pubblici che abbiamo in Europa. Noi stiamo pagando qualcosa come 14 finanziarie di interessi sul debito pubblico, cioè soldi che praticamente non producono alcun servizio. O l'inversione di tendenza inizia da questa dimensione macroeconomica che deve evidentemente avere un radicamento europeo, non può prescindere da questo, perché è là che se lo impongono. Ed è evidente che o partiamo da lì, oppure da qua in avanti al di là dei proclami del governo che dirà comunque che le cose vanno bene, che andranno meglio che il 2016. L'altro giorno prendevamo con un amico, un collega amministratore, titoli di giornali che partivano dal 2009 con tutti i programmi, il 2010 sarà l'anno della ripresa, il 2012, il 2013, il 2014, adesso sarà il 2016 o il 2017. Io penso che la dimensione reale del problema sia quella che abbiamo affrontato all'inizio della trasmissione, ovvero che una ripresa economica non c'è e che questa ripresa può esserci in due ambiti, quello sociale, che è quello di cercare di tamponare al massimo facendo rete sul territorio per così in qualche modo raccogliere quei casi più disperati come l'azione di suicidio che c'è stata oggi o piuttosto le altre, assieme a queste che sono quelle più eclatanti anche di quelle tantissime famiglie che si trovano in difficoltà e che nella riduzione delle spese si trovano in difficoltà con l'educazione per il trasporto, per le scuole, per i libri dei figli e anche per le prospettive future. Troppi studenti, anche universitari italiani, stanno guardando all'estero e pensano che se non c'è una prospettiva estera non c'è un futuro. Ecco, questo è sconsolante per chi vive e per chi lavora in Italia da anni e per chi vorrebbe che questo Stato rilanciasse, almeno in prospettiva per i giovani, un futuro almeno più certo. Allora, li rifiutano in tutta l'Europa e vengono qui a chiedere i documenti siamo l'ultima spiaggia e torneremo su questi temi degli indigenti domani sera con i veneti schiacciati dalla crisi come sempre, ma quando c'è padrin chiudiamo con una pillola di saggezza. No, io credo che la distinzione vera oggi sia fra quelli che stimolano la partecipazione vogliono che i cittadini vadano a votare per chiunque ma vadano a votare e quelli che si coltivano un orto attraverso l'esercizio del potere. Questo purtroppo è oggi lo sport più diffuso. Senta, sai come ha presentato, marcato l'altro giorno per l'incontro con la stampa durante il Natale? Zai ha salutato, ha presentato, marcato alla stampa dicendo l'imam, l'unico imam con gli occhi azzurri. A lei gliel'ha mai dato un po' dell'imam o no? Allora, io ho ottenuto la barba più orientale che è l'islamico, che c'è una differenza di cultura molto più millenaria, quella orientale che quella più confinante col Medio Oriente. Io credo però, e questo ne dissenterà Finco, che ci sono aspetti comuni sia fra l'estremismo islamico che l'estremismo di alcune parti della Liga. Ebbè, è uno spunto di cui possiamo parlare. Sono anche i colori abbastanza simili. Il verde predomina, in effetti. Allora, dobbiamo chiudere, abbiamo chiuso con un sorriso dopo una puntata in cui si è parlato di tanti veneti che si sono tolti la vita, delle cause. Non riusciremo a fermare probabilmente con la bacchetta magica questa strage, ma insomma, cerchiamo di trovare dei sistemi. Chi ha problemi, chi vuole un aiuto, venga qui in studio, ne parli, c'è Mirella, ci sono i volontari, c'è il Banco Solidale. Possiamo anche noi fare del nostro meglio, nel nostro piccolo, per aiutare chi sta soffrendo. Grazie molte a tutti, buonanotte, ci vediamo domani sera ovviamente. Arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello Canne fumarie certificate con soluzioni su misura MT Camini, nessun fumo negli occhi